Moriamo non solo dopo quell'esperienza a Modena, ma anche dopo tutto questo girovagare, i seri che hai fatto quest'anno. Intanto sono contento di essere tornato, sono arrivato in una società diversa, in un momento diverso, da quando sono venuto la prima volta a Modena. Sicuramente credo che quell'annata sia stata la peggiore livello personale della mia carriera e questo mi dispiace. Oggi secondo me sono una persona diversa, più matura, sono cambiato molto, anche come giocatore. Sono contento, voglio far vedere, voglio dimostrare che si sbagliavano quell'anno lì. Quindi cosa è successo nell'ultimo giorno di mercato? Lo sappiamo, insomma, hai riuscito prima con Pisa per arrivare qui, ma te l'aspettavi? Il Modena ti avevano chiamato, se non sbaglio, ci eravamo un mese dopo fa, comunque c'era stato un sondaggio. Ci avevi fatto il pensiero oppure avevi iniziato a fare l'ultimo riappasso tutto all'improvviso? No, sì, hai detto bene. Due settimane prima, intorno a Ferragosto, sapevo dell'interessamento del Modena e poi si è concretizzato per vari motivi l'ultimo giorno e appena c'è stata la possibilità veramente concreta ero felicissimo. L'ultima domanda che faccio personalmente, io ti avevo seguito per tutto l'anno a Carpi, poi è successo quello di successo, da un punto di vista tecnico che giocatore sei diventato, queste esperienze cosa ti hanno aiutato, su che cosa ti hanno informato? Carpi è stata un'esperienza molto positiva per me, siamo a retrocessi, sono stato lì in quattro mesi, però con Castori mi sono trovato molto bene, ho ritrovato fiducia, sono riuscito a esprimere le mie qualità e negli anni dopo ho imparato anche a fare la seconda punta, quella posizione a metà via tra l'esterno e l'attaccante. Sicuramente sono maturato molto, sono anche più consapevole delle mie qualità, quando ero qui avevo 19 anni, quindi ci sta che un ragazzo a 19 anni trovi delle difficoltà, però ti ripeto sono contento di essere qua e voglio dare una mano, un contributo alla squadra. Ciao Davide, ti chiedo come sono stati questi primi giorni, sei arrivato giovedì, quindi sono proprio i primissimi giorni, come ti sei trovato, come ti stai integrando nel gruppo? Molto bene, perché ho trovato un gruppo solido, che l'anno scorso ha fatto molto bene, sono contento, la società si vede che è serie, si è più realizzata, già dai primi momenti questo lo si può percepire, e niente, non sono qui per fare tante chiacchiere, tanti proclami, perché li ho già fatti tanti anni fa e adesso voglio far parlare il campo e i fatti. Ecco, però comunque ritrovi una società naturalmente completamente diversa, per te sarà anche bello tornare, avrai sicuramente tanta voglia di rivolsa. Sì, sicuramente ne ho tanta a livello personale, sono fortunato perché sono capitato da una società, come dici tu, seria, organizzata, con delle ambizioni, degli obiettivi ben precisi, e quindi sono felicissimo di farne parte. Dal momento che hai lasciato Modena hai collezionato più di 130 presenze in serie B, questo, a detta di tutti, è un campionato di A2, che campionato ti aspetti proprio in generale, questo cadetto? È un campionato difficilissimo, forse mai come quest'anno, come dici tu, è una serie A2, tutti i sabati credo non ci siano favoriti o sfavoriti, puoi vincere o perdere contro tutti, veramente, quindi pensiamo partita per partita e a fare più punti possibili. Sei uno dei tanti ex del ex Brescia che con il Modena affronterà sabato le rondinelle, con i vari ex hai parlato, c'è una voglia in più, uno stimolo in più per fare punti, al di là della situazione che ha visto il Modena perdere le prime tre partite su quattro. Sì, il Modena ha seguito queste prime partite, secondo me ha fatto delle ottime partite, per degli episodi le cose sono andate meno bene, però hanno fatto delle ottime partite e per quanto riguarda l'ex non è una partita che sento particolarmente, lì ho fatto solo un anno, però sono contento di giocarci contro. Se posso chiederti sui tifosi, ritrovi insomma una curva importante rispetto all'anno infatti in cui eri qua a Modena? Sì, magari i tifosi non sono felicissimi del mio arrivo, perché ci può stare, non hanno bellissimi ricordi di me, però voglio dimostrare anche a loro che sono una persona diversa, un giocatore diverso, che possiamo provare a farle cambiare idea. Che partita d'esperti è il Sabato Club Reyes? È una partita tosta, loro sono una squadra esperta, che fa tanti anni questo campionato e hanno anche vinto il campionato in passato. È una squadra organizzata, fatta da giocatori forti d'esperienza e quindi sarà una partita sicuramente difficile. Davide, dovevo chiedere anche l'anno scorso, secondo te, poi al fine cos'è? Che da un punto di vista personale non ha funzionato sul fine della stagione. Pisa poi è un abbinato incredibile, credo che anche tu abbia fatto un po' la bocca alla Serie A, però per te cos'è che non è andato? Io fino a febbraio ho giocato quasi tutte le partite, dopo il mercato in gennaio ho deciso di comprare tanti giocatori senza venderne e lì secondo me abbiamo un po' pagato questa cosa. Eravamo in tanti, il gruppo si era un po', non dico sfasciato, però insomma quando si è in tanti è difficile fare contenti tutti. E dopo un infortunio che ho avuto ho trovato pochissimo spazio per il cambio di modulo e mi dispiace perché eravamo primi, potevamo fare qualcosa di importante come alla fine abbiamo fatto, anche se abbiamo perso la finale e per questa è una stagione bellissima, però mi dispiace di non aver dato il mio contributo negli ultimi tre mesi. Ti chiedevo se posso con te Sera hai già parlato, lo conoscevi già immagino di sì, insomma per l'esperienza che ha tra B e C, però ci hai già parlato, ci hai detto qualcosa in particolare? Sì, ci ho parlato quando sono arrivato, si vede che è una brava persona, il curriculum parla per sé e niente, mi ha dato il benvenuto, mi ha cercato di spiegare un po' il progetto Modena e quello che lui pensa e niente, sono contento, sono contento di averlo, non è allenatore. Altre domani? La prossima, siamo a posto.